La registrazione è in corso, sono le 11.35, buongiorno a tutti, procediamo con l'appello che ha bisogno della giustifica la chiede. Corrente Giulio? Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Angelino Renzo? Presente. Vedoni Luca? Presente con attestazione, grazie. Burgio Arriano? Burgio Arriano? Canale Carla? Sordini Simone? Vecchio Francesca Romana? Io ci sono, scusatemi, ho sentito un nuovo sentito. Sì, sì, sì. Grazie. Vecchio, perfetto. Perfetto, mancano solo i consiglieri Canale e Sordini. Va bene. Allora, al secondo luogo, verbali non ci sono, ne proveremo la prossima seduta. Abbiamo il punto 2, l'ordine del giorno, che è relativo al, sperate che non leggo, allora, è relativo ai caduti di Monteserra, la risoluzione, modifica dell'Italia di Monteserra, e poi il punto 3, esame, eventuali questioni di parere sulla posta di risoluzione avente l'oggetto, ho messo in sicurezza di attraversare i centeniali pedonali. Vista la presenza del dottor Francesconi, che ringrazio, io, se i commissari presenti sono d'accordo, farei un'inversione, e quindi metterei al punto 2 il punto 3, al punto 3 il punto 2, in maniera tale che, siccome ha chiesto anche probabilmente di partecipare il presidente del comitato di quartiere di Piazza Cerva, che è relativo al punto 2, vedo che non è ancora arrivato, anche per agevolare la sua presenza. Scusa Giulio, il dottor Minciullo? Sì. Sì, mi ha chiesto adesso il link. La vicincia su Facebook. No, il link. Va bene, comunque anticipiamo, visto che tanto, insomma, anticipiamo, se i commissari sono d'accordo, se sono d'accordo, anticipiamo. Ok, allora, il punto 3, come dicevamo, messa in sicurezza del terrestre del tempo donario, il seguito dei sinistri stradali è venuto in un cipio Roma a 9 euro. Questa risoluzione, questa proposta di risoluzione, elaborata dai consiglieri Bedoni e Vecchio, in rigoroso ordine alfabetico, in realtà nasce da tutta una serie di molteplici senerazioni e sicuramente sarà oggetto di integrazione, perché ognuno per la sua, diciamo, conoscenza del territorio potrà eventualmente integrare quanto è contenuto come, diciamo, luoghi critici e di particolare attenzione, diciamo, sensibili, ecco, a questa tematica. Se i promotori vogliono farsi, dare una lettura, insomma, l'illustrazione, una presentazione della lettura, e poi entriamo nel merito. Consigli Bedoni, sì. Grazie, Presidente. Forse mi devo incuffiare perché è meglio. Allora, grazie. Io volevo anche ringraziarla perché, comunque, sì, siamo, diciamo, con la consigliera Vecchio, promotori, ma poi in realtà abbiamo lavorato anche con lei sullo sviluppo della risoluzione stessa e credo comunque che poi le risoluzioni siano veramente uno strumento di commissione che tutti, come diceva, giustamente lei possono integrare e su cui possono lavorare. Il discorso è questo. Abbiamo registrato, e ringrazio Francesconi che è presente, ma non è l'unico, diciamo, che ci ha portato a questo processo, delle problematiche serie su determinate strade dove, ascoltando anche la polizia municipale, si registrano un numero elevato di sinistri sulle strade, per l'appunto, indicate ed elencate. Adesso ci sono delle differenze strutturali, nel senso che via Vignone, per esempio, dove abbiamo indicato la necessità di aree di attraversamento sicure tramite dossi, ha un problema di alta velocità e come per l'area di Mostacciano, dove le strisce sono completamente cancellate, la visibilità delle stesse è bassa, scarsa o quasi nulla. Pertanto abbiamo ragionato sull'inserimento di dossi per mettere in sicurezza le aree, sulle aree di Mostacciano, generalmente nelle aree indicate, i civici indicati, c'è l'attraversamento che porta da un lato della strada all'altro per il raggiungimento dei servizi di trasporto pubblico, cioè del bus. Per quel che concerne Avignone, nello specifico, invece, dove andiamo a collocare i dossi, c'è una piccola area parco fronte negozi, poi magari Francesco Coni potrà essere più preciso, dove però specialmente nelle ore pomeridiane questa diventa una specie, essendo poi un giardino tra i negozi, di area gioco e ritrovo di bambini e rispetto all'ultimo sopralluogo fatto si era verificato un ulteriore sinistro di un bambino che giocando per l'appunto la palla era andata per strada, ha attraversato e la macchina l'ha preso senza fortunatamente conseguenze particolari. Per quel che concerne Viale Tupini, gli attraversamenti che sono a ridosso di Tupini per attraversare e raggiungere Viale Europa sono strategici per una serie di motivi. Uno, il fatto che comunque per quel che per quel che concerne l'area EUR la parte di San Pietro e Paolo che ha un grande numero di parcheggi viene utilizzata soprattutto dai lavoratori per parcheggiare e recarsi al lavoro. Questa è un'area che per l'appunto oltre ai negozi che sono a Viale Europa sostiene tutti quegli studi uffici studi medici e soprattutto gran parte delle poste italiane e dei ministeri che sono presenti e quindi sono aree ad alto attraversamento. Queste aree hanno questi punti di attraversamento anche essi hanno registrato dei sinistri e non tanto anche sugli attraversamenti specifici di Tupini ma anche diciamo sulla svolta a destra che poi a destra o a sinistra che porta a Viale Europa. Diciamo che specie per quel che riguarda per chi è poco pratico diciamo la discesa di Viale Tupini dove le macchine automaticamente prendono velocità e la svolta a sinistra per rimettersi a Viale Europa e di contro da Largo Ataturk arrivando a Viale Tupini e svoltando a destra la scarsa visibilità che c'è nel girare a destra hanno registrato un elevato numero di sinistri. Pertanto questi dossi possono servire a due cose nello specifico a rallentare la velocità dei mezzi e questo è un dato di fatto ma soprattutto a mettere in sicurezza gli attraversamenti e far sì che il combinato disposto tra la riduzione di velocità obbligatoria e per l'appunto la messa in sicurezza degli attraversamenti stessi possa andare a ridurre nello specifico il numero di sinistri che vengono registrati. Un fattore esterno ultimo che può essere utile viviamo in un municipio ma questo vale per tutta Roma dove le forze della polizia municipale non sono un numero estremamente elevato e ogni volta che si registra un sinistro queste sono giustamente impegnate sul luogo per il sinistro che si presenta quindi questo potrebbe andare anche indirettamente a ridurre il numero di interventi che la polizia municipale deve effettuare per questi sinistri che si registrano che in molti casi sono di entità non fortunatamente non particolarmente grave che però comportano un dispendio di energie e di costi che poi alla fine sono costi che paghiamo noi e che pagano i cittadini questa è la funzione dopodiché aggiungo e chiudo e non intervengo più non so se la consiglia vecchia deve aggiungere qualcosa ben disposti a trattare sulla base delle conoscenze che i consiglieri hanno tutte le possibilità e tutte le situazioni similari che abbiamo nel municipio per andare a intervenire per l'appunto a mettere in sicurezza altre aree chiudo con questa cosa non è menzionato nella risoluzione ma in determinati casi questo lo proponevano i consiglieri di minoranza non ci sono ma ci tengo a sottolinearlo potrebbe essere importante anche valutare in casi specifici delle illuminazioni diciamo degli alert a illuminazione specie su Via Vignone che la sera è leggermente più buia dove però appunto si può andare anche a percepire nell'immediato che c'è un pericolo attraversamento e diciamo provocare a priori un rallentamento attraverso sistemi lampeggianti concludo qui grazie presidente grazie a lei la consigliera Vecchio ha chiesto la parola grazie no sente malissimo forse le conviene togliere il video perché porta via banda ok mi sentite meglio ok dicevo che Luca ha fatto una panoramica della situazione abbastanza puntuale e inoltre comunque ricordiamo che sono problemi abbastanza annosi che si trascinano da vari anni e causano quindi disagio ai cittadini sono problemi che sono sempre stati dietro l'angolo non hanno mai ricevuto l'attenzione che meritavano e che chiaramente oltre a dare disturbo alla polizia municipale ogni volta richiede l'intervento della polizia municipale gli incidenti causano molto traffico specialmente ad esempio in un quartiere come l'Eur durante la settimana pieno di lavoratori e di uffici creano un rallentamento che mina veramente la viabilità della zona ha terminato non lo sentiamo più ok perfetto grazie allora sì io prendo atto della risoluzione insomma che diciamo va a individuare un bonus sulla sicurezza stradale una mia proposta che butto sul tavolo rispetto al titolo installazione di dossi artificiali per la sicurezza stradale io sarei leggermente più vago ma onicomprensivo nel senso che innanzitutto non direi dossi perché andiamo a individuare solo una tipologia di rallentamento stradale spesso in disaccordo con il passaggio del trasporto pubblico barra mezzi di soccorso se la mia proposta è modificare il titolo con installazione di attraversamenti pedonali rialzati o altre tipologie di rallentamenti della velocità finalizzata la messa in sicurezza dell'utenza debole oppure insomma possiamo lavorarci assieme perché dossi è una tipologia e peraltro è quella più difficilmente come dire passabile da un punto di vista tecnico l'attraversamento pedonale rialzato che permette il passaggio del mezzo pubblico e del mezzo di soccorso o altre tipologie o anche i dossi dove si possono mettere però ci dà uno spettro più ampio di intervento ecco questa è la mia proposta del merito però la butto sul tavolo della commissione ecco diciamo posso sì sì posso ah no no ho alzato la mano Angelini dopo Angelini ah no vabbè se vuoi Luca volevo solo aggiungere due cose tanto la pensiamo uguale poi tu dici le cose io sono d'accordo con te quindi ok allora no in realtà volevo solamente aggiungere una cosa in primo luogo adesso sul momento ragionando e leggendo la risoluzione luoghi da aggiungere me ne viene in mente solamente uno ma magari se la cosa non 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 crea un problema alla commissione nel caso si possono fare altri metodi però magari mi 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 prendo tempo nell'attesa che arrivi anche in consiglio se ci sono poi delle cose da aggiungere eccetera la la cosa che volevo lanciare sul tavolo che era più che altro anche un ragionamento anche per fare la domanda su come mai la situazione si è poi strutturata così è di su tutta via ignazio silone praticamente la via di ignazio silone aveva precedentemente in ogni ponte se non sbaglio proprio questo tipo di di rallentamenti per l'attraversamento poi nei rifacimenti del del manto stradale buona parte di alcuni di questi di questi rialzamenti sono spariti non so se io qui c'è c'è comprendo anche la mia ignoranza quindi chiedo anche se ci sono informazioni in più sono non sono stati poi più raggiunti quindi la domanda è se è stata proprio un errore nella ricostruzione del manto stradale oppure effettivamente sono stati tolti per qualche motivo pratico in caso in entrambi i casi vi proporrei se è possibile poterlo fare nel ragionamento di inserirla proprio all'interno della risoluzione perché comunque la via Ignazio Silone si ok ha qualche curva ma è una strada d'alto scorrimento alla fine diventa quindi posizionare dei dossi in quei punti significa anche rallentare tutto lo scorrimento del del boulevard di Laurentino che è così definibile ma insomma in parte le posso rispondere io a consigliere Gelini perché e si riferisce all'intervento mio di prima rispetto al titolo della risoluzione perché molti dossi non erano norma furono messi così in maniera diciamo non tanto spontanea quanto forse incauta e però il dipartimento ma già anni addietro diede una parere contrario perché dipartimento mobilità perché insomma dava dei problemi agli assi agli assi dei mezzi pubblici mentre invece furono approvati gli attraversamenti pedonali rialzati ma i dossi in sé sono limitativi insomma e spesso non vengono approvati dagli organi tecnici quindi nel rifacimento del del manto stradale sono stati eliminati i dossi e sono stati mantenuti alcuni attraversamenti pedonali rialzati ad orma che forse si potrebbero anche integrare insomma visto il fatto che appunto al primo ponte ci sono gli uffici anagrafici e quant'altro insomma localizzandoli nei luoghi che hanno maggiormente o il via Silone 100 dove abbiamo dove abbiamo i servizi sociali piuttosto che l'Asda ecco però il motivo per cui è stata rivista tutta la nomenclatura diciamo del manto stradale e deriva da questa da questa valutazione tecnica perfetto grazie dell'utilizzazione allora concludo tutto il discorso dicendo se fosse possibile a questo punto pensare di aggiungere una risoluzione quelli che sono gli attraversamenti pedonali in concomitanza con i ponti che in realtà erano esattamente quelli vista anche la mancanza di visibilità dovuta al ponte stesso che per forza di cose provoca già una mancanza di visibilità a chi attraversa e poi è innegabile quella strada a parte una curva è completamente dritta quindi può risultare anche pericoloso per alcuni eccessi di velocità signore Bedoni doveva intervenire sì io credo Presidente che sia risolvibile tramite emendamenti in consiglio mi aspetto che questi si presentino sulla base delle considerazioni che i consiglieri poi faranno passo passo sulla risoluzione quindi a meno che ci sono ecco particolari situazioni certificate che i consiglieri hanno pronte in questo momento e secondo perfettamente d'accordo sul fatto che dobbiamo renderla più open possibile a qualsiasi tipo di intervento quindi dal mio punto di vista massimo favore l'importante è che insomma risolviamo poi il problema nei luoghi nei luoghi individuati e in tutti quegli altri luoghi che verranno per l'appunto segnalati grazie condivido anch'io il fatto che anche così per rispetto e tutela di chi non è membro di questa commissione demandare a emendamenti fatti in consiglio condivisi nei quali appunto i consiglieri di maggioranza e di opposizione non componenti di questa commissione o gli assenti di oggi per dirne una possano comunque segnalare eventuali diciamo esigenze di messa in sicurezza di tratti stradali a rischio quindi faremo un maxi emendamentone nel quale ognuno insomma in base alla sua conoscenza del territorio potrà segnalare quindi la facciamo nascere così ma sapendo che comunque è un punto di partenza ecco non è blindata non deve essere blindata perché ahimè purtroppo le situazioni a rischio sono molteplici e peraltro nasce anche da un lavoro di commissione per cui appunto soprattutto sull'area Castellaccio avevamo anche preso l'impegno con i cittadini di elaborare un documento entro la fine di giugno siamo altrimenti a giugno quindi insomma direi che siamo stati anche di parola cosa insomma sempre piacevole detto questo un'ulteriore riflessione che io facevo e che do alla commissione non abbiamo individuato via della grande muraglia che fu una via sulla quale facevamo anche un sopralluogo con i cittadini forse forse questa proprio perché nasce da un sopralluogo forse questa avrebbe titolo per essere inserita nel documento diciamo iniziale però ripeto possiamo anche eventualmente emendarla essendo più precisi individuando i civici di riferimento insomma facendo anche un lavoro puntuale però teniamo la mente se non ce la aggiungiamo ora teniamo la mente ha chiesto la parola dottor Francesconi buongiorno a tutti Presidente la ringrazio per la per la precisione entro giugno è stato veramente puntuale la ringrazio la mente volevo per quanto riguarda i dossi di cui diceva lei perché poi ho avuto un problema con il cellulare e si è spento quindi mi si è interrotta la comunicazione fa bene a dire insomma i dossi al posto dei dossi stradali ma piani attraversamento rialzato perché sono pure a livello di legge insomma sono fattibili i dossi lei c'è una normativa un po' più restringente zone private quindi per via l'avignone non potrebbero essere installati per quanto riguarda i piani attraversamento pedonale sono quelli che ho segnalato più volte al municipio volevo precisare che andrebbero posizionati tra le due piazze al posto delle strisce pedonali che già sono presenti cioè prima delle due piazze e subito dopo quindi andrebbero a sostituire le strisce pedonali che già ci sono ma per il fatto come diceva il consigliere Bedoni che è una strada dove corrono il problema è quello che è una strada dobbiamo fare in modo che le macchine rallentino perché già sono stati investiti due bambini quindi se come diceva il consigliere oltre alle strisce riusciamo a mettere anche dei semafori lampeggianti o valutile presidente insomma delle alternative fattibili e valide affinché insomma si possa garantire la sicurezza dei bambini noi cittadini siamo più che favorevoli insomma l'importante è trovare una soluzione insomma al problema e di nuovo vi ringrazio per il fatto che stiamo affrontando questa cosa che insomma voglio essere un po' cattivo sono anni che provo a farla ma ad oggi abbiamo dovuto aspettare un altro bambino investito quindi confido insomma in tempi più o meno stretti che si possano trovare delle soluzioni valide grazie grazie a lei Francesconi allora a questo punto se vogliamo dare una breve lettura della risoluzione se i commissari non l'hanno già fatto diciamo autonomamente se no la diamo per recepita se siamo d'accordo di modificare tutti d'accordo dobbiamo essere per modificare il titolo della risoluzione no Maria deve essere tutti d'accordo no? com'è la regola? ok non riuscivo a smutarmi sì 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 bisogna essere tutti d'accordo ok se siamo tutti d'accordo non ci sono padevi con Angelini ha chiesto la parola nuovamente sì sì no scusate solo per comprendere come ci vogliamo muovere quindi la giunta ipotetica di via Ignazio Silone la portiamo la portiamo dal consiglio o facciamo una modifica qui presente in commissione l'emendamento dice l'aggiunta non l'aggiunta l'aggiunta se sarà in consiglio sarà emendamento ovviamente sì sì no io sulla linea anche del consigliere Bedoni sarei per farla nascere così con l'unico siamo dubbio di via della grande muraglia perché è argomento insomma di sopraluogo effettuato e di però non abbiamo dei civici di riferimento diciamo puntuali da poter sottoporre però ripeto anche nel rispetto a degli assenti della commissione odierna b dei consiglieri che non fanno parte di questa di questa commissione forse un emendamento fatto in consiglio che recepisca puntualmente le segnalazioni di tutti i consiglieri mi sembra mi sembra più lineare come percorso ecco diciamo parte questa risoluzione come dicevo prima è un punto di partenza che necessariamente dovrà essere integrato in base appunto agli ulteriori punti critici che ci sono nel municipio ma tendenzialmente io la terrei così anche perché ripeto è anche molto puntuale e quindi anche l'eventuale segnalazione dovrà essere altrettanto puntuale cioè mi piace che si sia Viale Minione fronte civico 92 perché evidentemente è proprio lì che bisogna intervenire non un generico lo metti in via Ugo Lamalfa piuttosto che Pinco Pallino quindi l'eventamento dovrà nascere con questa puntualità ecco perché solo così riusciamo a fare un atto uno che è controllabile nel percorso due perché comunque è possibile monitorarlo e sollecitarlo quando non quando non realizzato va bene va bene mi occuperò allora di attendo con ansia che arrivi in consiglio dipende da noi quindi va bene quindi a questo punto Maria modifichiamo anche io intanto faccio una proposta di testo che è installazione di attraversamenti pedonali rialzati o altre tipologie di riduzione della velocità finalizzati alla messa in sicurezza dell'utenza debole ok per il resto insomma nel corpo diciamo sono citate il dispositivo leggiamo giusto il dispositivo insomma a favore anche di verbale registrazione impegna il presidente della giunta del municipio nove Roma euro la formalità poi ci pensi tu d'accordo attivarsi per ripristinare gli attraversamenti pedonali e predisporre l'installazione di attraversare ecco dossi artificiali lo sostituiamo con attraversamenti pedonali rialzati o altri tipo se riprendere per riprendere un po' se riprendiamo tutto il titolo esatto attraversamenti pedonali rialzati o altre tipologie di cos'è che deve dire riduzione della velocità tipologie di riduzione della velocità finalizzate alla messa in sicurezza dell'utenza debole ecco senza mettere finalizzato alla diciamo solo cosa andiamo a fare noi ci prendiamo velocità nei seguenti punti Mostacciano via Garosi fronte civico 83 Mostacciano via Gastaldi fronte civico 84 Eur via Le Tupini fronte civico 106 Eur via Le Tupini fronte civico 113 Eur piazzale di Santi Pietro e Paolo due attraversamenti nella parte antistante della Basilica di Santi Pietro e Paolo Castellaccio via Le Vignone fronte civico 92 Castellaccio via Le Vignone fronte civico 106 Quindi data lettura del dispositivo se non ci sono ulteriori integrazioni segnalazioni o quant'altro possiamo metterla in votazione ok procedo con Raffaello nominale Corrente Giulio favorevole Angelino Renzo favorevole Bedoni Luca favorevole no Burgio Adriano favorevole Canale Carla Sordini Simone Vecchio Francesca Romana Faccio una seconda chiama Vecchio Francesca Romana Viene togliere il video perché ti mangia la balla Francesca non ti abbiamo sentito Ora sì Vecchio Francesca Romana Allora facciamo una cosa riattiviamo il video della consigliera Vecchio scrive in chat favorevole e poi ha il pollice alzato nel video insomma mi sentite? mi sentite? sì favorevole perfetto abbiamo risolto alla fonte va bene perfetto cinque presenti cinque favorevoli nessun contrario nessun astenuto la commissione esprime parere favorevole all'unanimità va bene ringrazio i consiglieri consigliere Bedoni sì grazie a tutti i consiglieri grazie presidente grazie a voi grazie ai cittadini che ci hanno segnalato e dovranno continuare a farlo insomma eventuali rischi per l'incolumità dell'utenza debole non solo va bene a questo punto io passerei al ringrazio il signor Francesconi ah vuole intervenire sì presidente volevo ringraziare lei e tutti i consiglieri grazie per l'interessamento buon lavoro grazie grazie a lei buona giornata allora a questo punto passiamo al punto 2 che era diventato il 3 ed è la proposta di risoluzione elaborata dal proposta 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 dal consigliere Angelini che modifiche della viabilità di via caduti di Monteserra anche questa nasce da un lavoro istruttorio in commissione tratto su una segnalazione della cdq di piazza Cerva che ha visto la presenza anche della polizia locale che ci ha dato peraltro come sempre anche degli spunti interessanti e soprattutto concreti e fattivi sull'analisi della problematica e eventuale sua risoluzione e da qui appunto è stato elaborato questo documento se il consigliere Angelini vuole brevemente illustrarlo alla commissione nel merito ne ha fatto contare sì grazie presidente in realtà non ci sono molte cose particolari da aggiungere perché la risoluzione nasce da quella riunione da quella commissione che abbiamo avuto il 6 aprile proprio in discussione su vari punti della zona di Giuliano d'Almata e quindi anche su proprio il discorso dei caduti di Monteserra in particolare la situazione di quel tratto di strada è sostanzialmente fuori controllo nel senso che si riscontra avere un pezzo di strada a doppio senso senza le banchine per i pedoni rendendo il passaggio molto pericoloso soprattutto perché in realtà è molto più affullato di quanto sempre a causa della presenza dei carabinieri dall'altro lato della strada quindi per forza di cose se si passa a piedi la maggior parte delle persone passano di lì perché è la strada più veloce quindi sostanzialmente quello che volevo proporre in commissione qui ma insomma nel lavoro della commissione che abbiamo fatto era quello di costruire un'istruttoria per vedere se è possibile permettere di strutturare via di caduto di Monteserra a senso unico così da poter costruire a entrambi i lati le banchine per i pedoni riprendendo in esame quello che la polizia locale aveva detto nella commissione del 6 aprile e cioè proponendo lo spostamento il senso unico ad entrare verso via dei genieri così da poter dare più uscite all'arteria della Laurentina che essendo sempre molto trafficata ha bisogno di più possibilità per insomma per spostarsi e insomma per defluire e in realtà non c'è molto altro da aggiungere questo è semplicemente questo discorso qua ovviamente il presupposto di tutto nasce in una questione di sicurezza dato il fatto che di fronte al doppio senso in sé non è il problema il doppio senso in sé della strada quanto il fatto che a causa di questo doppio senso e a causa del fatto che non si può allargare la strada perché sono presenti da un lato i militari e dall'altra strutture private la situazione non è possibile neanche modificarla lasciando il doppio senso quindi per forza di cose per questioni di sicurezza sembra la cosa anche più evidente contando comunque l'uscita dal quartiere da parte di via dei genieri oppure passando dietro per via degli arditi e scendere poi per viale dell'esercito concluso bene grazie considera Genini io ho fatto anche una piccola ricerca per capire un po' la titolarità di quell'area perché non compare in nessun documento diciamo ufficiale nel PGTU nel viario stradale perché presumo a questo punto se ne sincererà l'ufficio tecnico quando riceverà questa risoluzione che sia area demaniale oserei dire quindi insomma poi si avvierà un processo di attribuzione di competenze per capire la tipologia dell'intervento però insomma questo è un contributo che mi sentivo di dare alla commissione allora anche qui a favore di verbale ma soprattutto di registrazione leggiamo il dispositivo allora il consiglio del municipio Roma 9 euro risolve di impegnare la presidente del municipio Roma 9 euro l'assessore municipale della mobilità e lavori pubblici ad attivarsi per richiedere all'agenzia Roma Servizi per la Mobilità uno studio trasportistico finalizzato ad un intervento di razionalizzazione della viabilità di quella parte del quartiere che preveda la modifica di viabilità su via Caduti Monteserra ponendo come suggerito dalla polizia locale un senso unico da via dei lanceri verso via dei genieri prevedendo altresì la possibilità di realizzare un marciapiede finalizzato alla messa in sicurezza del transito pedonale dell'utenza debole questo è il dispositivo vedo ma non lo vedo più c'era anche ah no ecco il presidente Minciullo se vuole intervenire nella discussione visto che è stato insomma il volano di questa risoluzione è ospite gradito grazie presidente sì a me fa piacere che finalmente stia arrivando quasi a conclusione questo processo il problema che è di realizzare il senso unico con verso via dei genieri è da collegare però anche con la possibilità adesso io apro un altro discorso che magari sarà oggetto di altra commissione di altra seduta la possibilità che si possa poi uscire nella direzione del grande raccordo anulare direttamente da via dei genieri facendo un studio trasportistico che metta a confronto questa possibilità da noi più volte proposta con l'altra possibilità attuale che viene realizzata 200 metri più in là io ritengo che il servizio reso dal adesso però stiamo passando ad altro argomento non lo so è un argomento che ho già trattato che ho già esposto io penso che comunque il servizio reso dalla possibilità di accedere in direzione dell'accordo anulare da via da via dei genieri sia sicuramente migliore rispetto all'alternativa attuale questo penso che si debba riflettere su questo argomento e si debba fare uno studio apposito per verificare qual è il vantaggio in termini trasportistici in termini di servizio reso alla popolazione grazie grazie a lei presidente sì l'aveva già segnalato nella commissione mi sembrava che la l'opinione della polizia locale fosse stato abbastanza diciamo esaudiente però nulla toglie che si possa comunque approfondire perché appunto come diceva lei 20 metri dopo l'uscita di via dei genieri c'è la possibilità di inversione che penso sia lì anche perché è come dire collegato al semaforo che poi porta in via in viale dell'umanesimo quindi mettere due semaforizzazioni a distanza di 100 metri oggettivamente penso proprio che per i fussi di traffico possa essere problematico però voglio dire ho fatto altre scuole quindi lascio poi ai tecnici agli ingegneri del trasporto l'ultima parola ecco allora detto questo mi permette presidente no la mia proposta era quella di eliminare l'attuale possibilità di accedere verso il raccordo anulare e attivare questa via dei ingegneri non di averne due una dopo l'altra non ho capito perfettamente sostenevo il fatto che penso che mettere due semaforizzazioni a distanza di 100 150 metri l'una dall'altra una quella che permetterebbe l'inversione di marcia su via laurentina e l'altra che permetterebbe l'accesso la svolta sul piano dell'umanesimo sia problematico dal punto di vista trasportistico però ripeto sono analisi che dovranno fare poi i tecnici preposti mentre invece mettendo i semafori più vicini il flusso di traffico si interrompe solo al termine diciamo di un unico flusso non ne crea due però ripeto lo valuteremmo poi in opportuna serie insomma questo è già stato sollevato concentriamoci su questo che insomma mi sembra già un primo punto di partenza quindi se non ci sono integrazioni osservazioni del merito e quant'altro possiamo anche qui procedere alla votazione procedo con l'appello nominale Corrente Giulio favorevole Angelini Lorenzo favorevole Bedoni Luca favorevole Burgio Adriano favorevole Canale Carla Sordini Simone Vecchio Francesca Romana favorevole cinque presenti cinque favorevoli nessun contrario nessun astenuto la commissione esprime parere favorevole all'unanimità benissimo allora se qualcuno ha degli argomenti da proporre nelle varie ed eventuali se non parliamo della convocazione di mercoledì prossimo allora pensavo per mercoledì prossimo se i commissari sono d'accordo di convocare un punto sullo stato di avanzamento degli appalti come richiesto anche dalla consigliera Canale mi sembra un argomento insomma assolutamente interessante invitando l'assessore Angelucci che sottolinea sempre ospite gradito alle commissioni a prescindere che venga invitata formalmente quando ha il titolo per essere invitata formalmente e in questo caso la invitiamo formalmente e l'ufficio tecnico sperando insomma che abbia la disponibilità di presenziare quella mezz'oretta che ci occorrerà appunto dare lettura e condividere con noi lo stato dell'arte degli appalti e in secondo luogo vorrei pensavo di focalizzare l'attenzione su via Nairobi perché c'è stato il 16 giugno un sopralluogo in loco come da verbale insomma è stato letto in commissione e quindi non sappiamo l'esito di quel sopralluogo che era finalizzato all'intervento su quei famosi cavi senza padrone senza titolo e quindi capire se questo processo si era sbloccato e quindi c'era un stato di avanzamento mentre invece su via Bong abbiamo parlato già la settimana scorsa c'è un problema appunto legato a burocratico fondamentalmente amministrativo legato all'azienda subappaltante che necessita in base al codice degli appalti della verifica della documentazione e quindi ahimè non abbiamo novità di alcun genere nel senso né positive né negative se non il fatto che c'è la valutazione del merito della ditta subentrante della ditta subappaltante subentrante alla precedente quindi però anche quello insomma adesso prima del periodo feriale visto che tra un po' scade anche l'anno insomma quindi come diceva uno cittadino ospite festeggeremo la prima candelina sarà il caso di avere un aggiornamento diciamo di persona da parte del sempre disponibile ingegner sali quindi se non c'è null'altro io dichiarerei chiusa la commissione alle 12.18 Maria prepariamo allora la la convocazione no su questo indicazione tu quando non ci sei lunedì mi dicevi no 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 ci sono sempre che lunedì devo fare sia la sesta la capigruppo nel momento in cui me la mandi la facciamo partire e quindi la chiudiamo insomma tra oggi e domani perfetto perfetto allora chiudo la registrazione d'accordo e sono le 12